Quando ho deciso di fare il medico e quindi mi sono iscritto a medicina, questa mia decisione era dettata in maniera molto forte dalla figura del nostro medico di famiglia che veniva a casa da noi quando stavamo male, visitava me, visitava mia sorella e poi si tratteneva a chiacchierare amabilmente con i miei genitori, altri tempi, probabilmente, anzi sicuramente altre figure. Nel corso però dei miei studi mi sono poi ritrovato a vedere pazienti con le oscemie, pazienti con il cancro e quindi sono scivolato verso un'idea diversa della medicina, un'idea diversa nella quale mi piaceva personalmente l'idea di poter dare un contributo senza nulla togliere al medico di famiglia di allora e di oggi ovviamente, ma un'idea diversa di medicina che voleva cercare di fare qualcosa in più. La vita poi è, come sapete, un po' buffa e a volte una lettera può cambiarsi la vita. Questa è una lettera che ho ricevuto nel 1984, vedete scritta ancora con la macchina da scrivere, in cui l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro mi comunicava di aver vinto una borsa di studio per l'estero. Era una borsa di studio per un periodo di tempo molto limitato, o limitato, che io ho utilizzato per andare a lavorare a New York, andare a lavorare a New York in un centro di immunologia, dove nell'84 si iniziavano a fare delle prime esperienze di immunoterapia dei tumori. Poi, un po' come capita nella vita di tutti quanti, ci sono rimasto sei anni. E quindi a un certo punto, a 29 anni, 30 anni, mi sono ritrovato un po' davanti al bivio. Resto, ritorno. Ho deciso di ritornare, in qualche maniera accettando un po' una scommessa con me stesso, di voler provare a mettere in piedi un progetto in Italia che coinvolgesse persone di alto livello nell'ambito dell'immunoterapia dei tumori. Direi che questa scommessa, almeno questa scommessa, è stata vinta perché oggi a Siena, qui abbiamo un centro in cui lavorano oltre 50 persone, molti di loro ricercatori attivi, nell'ambito dell'immunoterapia dei tumori. Ma cos'è l'immunoterapia del cancro? È sostanzialmente un cambio di paradigma assoluto rispetto a ciò che noi abbiamo utilizzato nell'ultimo secolo, direi, per trattare di tumori umani. Questa è una vecchissima diapositiva che io ormai uso da probabilmente 30 anni, che in qualche maniera identifica anche in sequenza temporale le strategie che noi abbiamo, che abbiamo e abbiamo e in qualche maniera avremo a disposizione per trattare i tumori. Fino alla fine dell'Ottocento c'era solo la chirurgia. Molte volte una chirurgia devastante, inutile, perché non aveva la possibilità di portare a casa risultati importanti. Poi agli inizi del Novecento abbiamo cominciato di avere a disposizione anche la radioterapia, che ha dato certamente un contributo e continua a darlo al trattamento dei tumori umani. A questa poi negli anni Sessanta ha fatto seguito la chemioterapia, che è stata vista negli anni Sessanta come la strategia che avrebbe definitivamente combattuto in maniera definitiva i tumori umani. Però già negli ultimi 30 anni, direi 40 anni, c'era un gruppo sparuto di oncologi che in giro per il mondo riteneva che questo non fosse sufficiente e soprattutto che riteneva, nella quarta sfera che vedete colorata in giallo, che si potesse utilizzare le nostre difese immunitarie per combattere il cancro. Era, se volete, un gruppo di visionari che si ritrovava in tutti i convegni internazionali. Alla fine del convegno, nella sala più lontana, quella più sperduta, ci si parlava anche un po' addosso, ma che aveva le basi razionali per continuare a pensare in maniera molto pervicace che fosse possibile utilizzare il nostro sistema immunitario, cioè quello che noi abbiamo all'interno del nostro organismo, tutti noi, e che ci permette di sopravvivere nell'ambiente esterno quotidianamente per combattere il cancro. Questa diapositiva io l'ho utilizzata tantissime volte per dire e poi c'è l'immunoterapia, che è una strategia promettente. Bene, non è più così. Non è più così perché l'immunoterapia è la quarta strategia oggi che abbiamo a disposizione per combattere il cancro e quindi per sradicarlo dall'interno, utilizzando il nostro stesso organismo, che, vedete, è in grado nel corso della nostra vita, della vita di tutti noi, di tenere sotto controllo e distruggere delle cellule che decidono di diventare immortali, quindi delle cellule tumorali. Questo accade. In alcune occasioni, però, queste cellule diventano talmente capaci di sopravvivere che sfuggono a questo controllo e quindi abbiamo l'evidenza clinica del cancro. Sfuggire al controllo significa che le nostre difese immunitarie non sono più efficaci, sono state messe fuori gioco. Con l'immunoterapia noi cosa facciamo? Cambiamo completamente il paradigma, non utilizziamo più qualsivoglia delle tre strategie che abbiamo utilizzato negli ultimi cent'anni, bensì utilizziamo dei farmaci, che sono dei veri e propri farmaci, per potenziare le difese immunitarie del paziente. Quindi non dirigiamo più la nostra attività verso il tumore, bensì le dirigiamo verso il sistema immunitario del paziente. E quando siamo bravi a fare questo, e quando abbiamo tutti gli ingredienti giusti, riusciamo a ottenere le risposte cliniche, che sono spettacolari, lasciatemi lo dire, e che in alcuni tipi di tumori, penso al melanoma cutaneo, che è un tumore della pelle, per il quale fino a pochissimi anni fa non avevamo assolutamente nulla da poter offrire ai nostri pazienti. Oggi abbiamo più che triplicato la sopravvivenza di questi pazienti a 10 anni dall'inizio della terapia. Quindi stiamo ottenendo dei risultati estremamente importanti che in alcuni tumori sono andati oltre la chemioterapia, ad esempio il melanoma. Ma certamente ci sono tanti altri tumori sui quali stiamo lavorando e abbiamo ottenuto dei risultati importanti che sono oggi a disposizione di tutti, che sono oggi a disposizione di tutti gli oncologi, non solo fuori dall'Italia, ma anche in Italia. E quindi abbiamo farmaci che funzionano bene nel cancro del polmone, nel cancro della viscica, nei tumori di testa-collo. È una lista che si allunga un po' come una galoppata triunfale, quasi ogni settimana. Quasi ogni settimana otteniamo ulteriori informazioni sull'efficacia di questa strategia terapeutica. Quindi un cambio assoluto di paradigma. C'è però da dire che io sono un entusiasta, perché ho sempre lavorato nell'ambito dell'immunoterapia dei tumori, sono un entusiasta di quello che sta accadendo oggi. Ma c'è da dire che la comunità scientifica internazionale, anche quella che è stata assolutamente scettica fino a qualche anno fa, fino a pochissimi anni fa, ha preso coscienza che quel gruppo di visionari, qualcosa in testa che l'aveva, aveva degli elementi per immaginare che si potessero ottenere dei risultati importanti. Quindi oggi l'immunoterapia viene vista da tutti, anche dagli scettici, da quelli che non ci credevano, come una strategia assolutamente importante nel percorso terapeutico dei nostri pazienti. Ed è inutile dire che molti di quegli scettici oggi sono diventati degli esperti, ma questo fa parte delle cose che viene nell'antura delle persone. Quello che però è assolutamente importante è guardare al futuro, cioè andare oltre ciò che finalmente siamo riusciti a ottenere dopo decenni di insuccessi. E questo è assolutamente possibile perché noi oggi abbiamo le basi scientifiche, le basi cliniche, per comprendere come migliorare la possibilità, migliorare la percentuale di pazienti che risponde ai trattamenti immunoterapici. Perché comunque, anche nella migliore delle ipotesi, noi abbiamo che circa il 50% dei pazienti non trae beneficio da questo tipo di trattamento. Ma gli ultimi decenni non sono passati in vano anche in questo senso. Perché noi, grazie alla ricerca, siamo riusciti, noi comunità scientifica internazionale, a comprendere i meccanismi intimi che regolano questa... abbiamo visto una danza molto bella prima, in questo caso particolare che regolano una danza due, quella fra il sistema immunitario, il nostro sistema immunitario, quello che è dentro tutti noi, e il cancro. Questa è una danza che per funzionare richiede moltissimi elementi, richiede che noi conosciamo profondamente le radici di questa interazione. E le radici di questa interazione sono complesse, perché sono, da un lato, il tumore con tutte le sue sfaccettature, tutte le sue caratteristiche, tutte le sue diversità e tantissimi meccanismi che mette in atto per sfuggire al controllo del sistema immunitario. Dall'altro lato, però, abbiamo le nostre difese immunitarie che sono in qualche maniera diverse fra tutti noi, hanno un livello diverso di efficienza. Quindi, solo se riusciamo a mettere insieme in maniera ottimale questi due attori, riusciamo ad ottenere il miglior controllo della malattia. Ma a questo si aggiunge complessità su complessità. Stiamo imparando che il tumore si nasconde al sistema immunitario, non solo cambiando le proprie caratteristiche, ma sviluppando una nicchia all'interno di cui vive il cosiddetto microambiente tumorale, che molte volte utilizza le nostre stesse difese immunitarie, alcuni tipi di cellule del nostro sistema immunitario, per difendersi dal sistema immunitario che abbiamo attivato in maniera specifica con dei farmaci. Quindi c'è molto lavoro da fare, c'è moltissimo lavoro da fare, ma abbiamo una base, come dire, fantastica di lavoro, che parte non solo dai risultati che abbiamo già ottenuto, ma dalle conoscenze che continuiamo ad acquisire giornalmente anche sulla funzionalità del nostro sistema immunitario. E in quest'ottica mi piace ricordare che lunedì scorso questi due signori, Jim Ellison e Tasukonio, hanno ricevuto il premio Nobel per una loro scoperta fondamentale. Nei media avrete sentito che avevano storie toccanti di amici che avevano avuto il cancro, niente di tutto questo. Loro non erano interessati al cancro, loro erano interessati a capire come funziona il nostro sistema immunitario. E ci sono riusciti, perché sono riusciti a comprendere che la funzionalità delle nostre difese immunitarie, tutti i giorni in questo momento, in ciascuno di voi, passa attraverso l'interazione fisica tra le cellule del sistema immunitario che si parlano fra di loro per ottimizzare il controllo di ciò che è estraneo, attraverso delle molecole di membrana. Da questa scoperta fondamentale che ha permesso di capire che esistono dei circuiti regolatori negativi, quindi che spengono la nostra risposta immunitaria, si sono poi generati dei farmaci diretti in questo momento prevalentemente contro due molecole, una si chiama CTLA4, l'altra si chiama PD1, che sono in grado di spezzare, di bloccare questi segnali negativi, quindi che mantengono e potenziano l'attività del nostro sistema immunitario, che a sua volta è poi in grado, in oltre il 50% dei pazienti, in circa il 50% dei pazienti, come vi dicevo, di tenere sotto controllo il tumore e di eliminarlo e di permettere ai pazienti di vivere e di vivere molto più a lungo rispetto a quello che ci si sarebbe potuto immaginare. Quindi questi due signori hanno certamente contribuito in maniera fondamentale ai successi dell'immunoterapia di oggi, ma partendo lavorando sulle radici del funzionamento del nostro sistema immunitario. È un po' come parlavo qualche giorno fa con un amico, un grande produttore di vino, che mi diceva per fare un grande vino bisogna conoscere le radici, bisogna sapere in quale terreno affondano le radici, altrimenti non riesci mai, non potrai mai riuscire che di ad ottenere un grandissimo vino. Grazie. Grazie.